Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è lunedì 25 aprile 2022, festa della liberazione, una festa particolare quest'anno che assume un significato più sentito, più emozionante dovremmo dire per quanto riguarda quello che sta accadendo in Ucraina dove la resistenza, oggi si festeggia anche un po' questo ideale, questo concetto dove la resistenza è un po' l'assembramento, costituisce l'assembramento di tutto un popolo che lotta contro la spropia, contro il sopruso della propria indipendenza. Quindi ci saranno diverse cerimonie oggi che tutte le località stanno organizzando per ricordare che i momenti che durante la Seconda Guerra Mondiale confluirono poi nella liberazione, momento esaltante per quanto riguarda il futuro dei nostri territori e speriamo così che sia anche per l'Ucraina. Vediamo qual è il santo del giorno, un santo molto famoso, un santo molto conosciuto, un santo molto sentito, in modo particolare poi anche dai veneziani e San Marco. Marco è un nome molto diffuso anche al giorno d'oggi, San Marco evangelista. Noi conosciamo San Marco solo perché ha scritto il Vangelo, ma chi era in realtà San Marco? San Marco era nato a Cirene, in Libia, la località che viene proprio indagata dalla Università di Urbino che ha compiuto diverse missioni di carattere archeologico per riportare alla luce quei monumenti. purtroppo Cirene, essendo in Libia, difficilmente è visitabile. Era il, tra virgolette, il segretario di San Pietro, era l'uomo che lo seguiva e che traduceva in lettere, in scritti, le sue parole. Accompagnò l'Apostolo nei suoi viaggi a Roma dove scrisse appunto il suo Vangelo in lingua greca, era la lingua un po' parlata dalle persone colte. Fu il secondo Vangelo dopo quello di Matteo e prima di quello di Luca. Ordinato vescovo da San Pietro, fu mandato in Egitto per predicare la fede in Gesù. Morì poi ad Alessandria dove i veneziani, passati alcuni secoli, diciamo così, trafugarono il suo corpo e lo portarono a Venezia dove fu eretta la grande basilica in stile bizantino. La basilica che appunto custodisce le reliquie di quello che rimane del corpo di San Marco. E veniamo alle previsioni del tempo nella giornata di oggi. Il tempo stamattina si è ristabilito dopo la pioggia di ieri. Vediamo però che nubi irregolari ed ampie schiarite si alterneranno nel corso della giornata. Poi ci sarà anche un peggioramento con deboli piogge nella seconda parte della giornata. Le massime arriveranno fino a 20 gradi e le minime a 11. I venti sulle coste espireranno da una direzione di ovest-sud-ovest, la stessa nell'entroterra. Le temperature comunque sono in calo. E per quanto riguarda le notizie, vediamo che le notizie a carattere nazionale si accentrano su due questioni. Uno, la vittoria di Macron in Francia. Macron fa il bis e l'Europa respira. Ha intitolato oggi il resto delle Carlino sulla pagina nazionale, mentre la fotonotizia è riservata ad una immagine che fa riflettere. Un'immagine che parla di ipocresia. Il diavolo è l'acqua santa. È l'immagine di Putin che si fa il segno della croce nel giorno della Pasqua ortodossa, reggimano una candela. Però nel suo volto si rispecchiano tutti i drammi, tutti gli eccidi che il suo esercito sta facendo in Ucraina con la morte di tanti tanti bambini. Ma noi sfogliamo il giornale sulla pagina locale, partiamo dal Corriere Adriatico questa mattina, dove si parla di turismo perché il weekend della domenica e del 25 aprile ha costituito l'occasione per tante persone di fare dei viaggi, di fare dei piccoli viaggi fuori porta così per godersi due giorni di vacanza. E vediamo che gli alberghi si stanno attrezzando, si stanno qualificando per ricevere i propri clienti. Investimenti per qualificare gli hotel. I titolari dicono l'offerta non è inadeguata. Spesso si parla che l'offerta del ricettivo fanese sia un po' desueta, sia un po' antiquata, non è all'altezza delle esigenze del mercato. Non è vero. Lo attestano gli investimenti che hanno fatto gli albergatori per qualificare le loro strutture. C'è chi ha fatto addirittura una piscina sul tetto, c'è chi si è attrezzato per accogliere i biker o nel genere di turismo sempre più in voga in questo ultimo periodo. Tutti o quasi si sono adeguati per accogliere i disabili, quindi eliminando le barriere architettoniche. C'è chi ha fatto un locale per far divertire i bambini, quindi ad accogliere e fare un turismo molto adatto per le famiglie. Quasi tutti hanno così riqualificato le camere, i servizi igienici, gli arredi. Insomma, si sono dati da fare per rendere il soggiorno nel fanese, in tutta la costa fanese, all'altezza delle esigenze dei clienti. E anche per quanto riguarda i risparmi, molti hanno messo le fonti di energia alternativa sul tetto del loro albergo. Affano i disabili, ne salgono, ne scendano dai treni. È un articolo questo che evidenzia una denuncia di Angelo Bertoglio, di Fratelli d'Italia, che prende le mosse dalle dichiarazioni del sindaco Massimo Seri in merito a quanto accaduto a Genova, dove un vagone prenotato da un gruppo di disabili è stato occupato invece dai passeggeri normali, i quali si sono rifiutati di cedere il posto a chi ne aveva diritto. Ebbene, esecrando questa situazione, Bertoglio dice che però anche Fano deve correre ai pari, perché c'è molto da fare per eliminare le barriere architettoniche e soprattutto per rendere agevole, per rendere usufruibile la nostra stazione ferroviaria per quanto riguarda coloro che si muovono a fatica e devono salire sui treni. Apriamo la seconda pagina del Corriere Adriatico, dove si parla di accesso ai siti archeologici. Ci sono state diverse prese di posizione intorno a questo problema. L'accesso alle zone archeologiche della città di Fano è un accesso problematico, diciamo così, perché un turista che arriva in mezza giornata a Fano per visitare la città si trova di fronte ai cancelli chiusi. Per aprilio occorre trovare il numero di telefono, fare la prenotazione, aspettare poi che i gestori dei siti organizzino le visite e quindi di fronte a queste problematiche l'autista dà una sbirciatina e se ne va, torna indietro. Così non va, perché la Fano romana è una delle fonti di attrezioni principali del turismo fanese. E dopo gli appelli lanciati dalla presidente della Confcommercio, Barbara Marcolini, dall'ex assessore alla cultura Stefano Marchegiani, oggi parla il presidente del centro studi Vitruviani, Dino Zachilli, il quale non solo invita i proprietari, i gestori di questi siti a rendere più agevole l'ingresso ai turisti, ma dice che occorre un unico gestore, un unico gestore a cui magari una collaborazione e un'intesa tra i vari proprietari, Fondazione Carifano, Diocesi di Fano, Comune di Fano, possono delegare appunto la gestione dei loro beni archeologici per renderli più fruibili al turismo fanese. Passiamo ora a San Costanzo, dove vediamo che l'assessore Milena Volpe, che è l'assessore ai servizi sociali, fa un quadro dell'accoglienza dei profughi ucraini nel territorio appunto di San Costanzo. Molti vogliono tornare in patria, sono 14 gli ucraini ospitati a San Costanzo in sinergia con l'ambito sociale numero 6 e di questi 14, 7 sono minori. Ovviamente usufruiscono di tutta l'accoglienza che il territorio riesce loro a dare, ma la loro aspirazione è quella di tornare a casa in Ucraina, dove hanno lasciato i loro ricordi, i loro beni, la loro casa, insomma tutta la loro vita appartiene a questa nazione. Un episodio di cronaca, a fondo pagina del Corriere Adriatico. A Pergola un violento litigio spunta un coltello, una collutazione nei pressi di un bar avvenuta nel pomeriggio di ieri tra due uomini che sono venuti alle mani in pieno centro storico. Il confronto è degenerato lungo corso Matteotti. A certo punto un uomo ha tirato fuori un coltello, ovviamente per fortuna non sono poi successi ulteriori sviluppi del caso, però si stanno occupando i carabinieri della stazione locale che intendono ricostruire quanto è avvenuto, insomma accertare la dinamica e la responsabilità del fatto sugli accertamenti, mantengono però al momento uno stretto riservo. Invece a terre roveresche degli automobilisti hanno trovato una strada piena di spuntoni che hanno rotto le gomme degli autoveicoli. Qualcuno ha sparso manciate di chiodi e viti lungo la strada di Rialdone nel municipio di Barchi, con conseguenze appunto pagate direttamente da chi si è trovato i pneumatici danneggiati. È una denuncia che ha fatto un automobilista che ha dovuto ricorrere al gommista per ben tre volte in dieci giorni. Insomma un problema è stata di Fabio Cardoni che ha denunciato il fatto, un problema però che non è solo il suo ma è stato condiviso da tante altre persone. Vediamo anche la pagina di Senigallia questa mattina dove vediamo che sono finiti nelle mire dei poliziotti i due giovani che cedevano del metadone. È stata un'operazione per quanto riguarda lo spaccio della droga. Cedono un flacone di metadone denunciati per spaccio due giovani. Scambio per poche decine di euro. Il cliente è stato segnalato in prefettura. Nei guai anche un guidatore ubriaco in seguito ad un accertamento che gli uomini della polizia locale hanno fatto con l'etilometro nei confronti di 30 conducenti. Tra questi hanno trovato un uomo con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 grammi per litro. Motivo per il quale è stato denunciato per guida in stato di ebrezza con conseguente ritiro della patente di guida. Invece il fatto dello spaccio di droga è accaduto sabato sera a Borgo Molino nei pressi di via Abagnano. Comunque sono stati poi effettuati i relativi procedimenti per quanto riguarda appunto questo reato. E veniamo anche ad un ulteriore articolo per la scomparsa di Andrea Rabciuk, la ragazza di cui non si sa più nulla. Le chat cancellate ed il sangue sul giubbino sono degli indizi su cui stanno inquisendo gli inquirenti della polizia, soprattutto per quanto riguarda la posizione del fidanzato Andrea. Il giallo di Andrea in mano ai consulenti. La procura ipotizza per ora il sequestro di persona. Per la difesa però del fidanzato la ragazza è andata all'estero. e non sarebbe stata insolita a fare queste scappate secondo appunto i difensori del ragazzo. E veniamo alla pagina di Pesaro per quanto riguarda il Corriere Adriatico. Vediamo come il settore dell'edilizia dopo la grande ripresa che è intervenuta grazie anche ai sussidi governativi, al bonus delle facciate 110 e via dicendo. Ora invece a causa della difficoltà di reperimento delle materie prime il settore è in crisi. Edilizia traino della ripresa adesso rischiamo la paralisi. Imprenditori e associazioni confindustria segnalano l'aumento dei prezzi e la situazione di incertezza. Un esempio, il ferro da costruzione è aumentato addirittura del 200%, variazione dei costi anche ogni 15 giorni. Quindi i listini prezzi hanno veramente una brevissima durata. Gli aumenti dunque non si fermano. Il rialzo dei prezzi dei materiali subisce modifiche ogni 15 giorni. Siamo nell'ordine del 15-20% di aumento nel giro addirittura di due settimane. Materie e forniture colpite sono quelle del calcestruzzo, degli isolanti, dell'alluminio per impalcature con prezzi alla fonte che sono addirittura raddoppiati. E secondo un'analisi del settore della CNA edilizia e Lancio, Pesaro, Urbino, i cantieri edili privati o per appalti pubblici subiscono rallentamenti in media di 3-4 mesi nella consegna. Quindi un prolungamento che si riferisce, che poi subisce ulteriori aumenti perché in questo periodo i prezzi, i costi aumentano sempre di più. Quindi dei danni per quanto riguarda il prolungamento dei lavori e dei danni per quanto riguarda l'aumento dei costi. La giostra dei listini, prezzi, durano come neve al sole, rincara un altro articolo sempre sullo stesso argomento. Rilancio di Pesaro Studi, ci sono già 100.000 euro. Dovrà ospitare gli studenti universitari e gli studenti della Dante Alighieri, Pozzi, Riccardo Pozzi, risorse per impianti e spazi da adeguare alle esigenze didattiche. E il piano di organizzazione scolastica, in questo caso si parla proprio di questo, il piano di organizzazione scolastica per trovare spazio da un lato ai 100 universitari dei due nuovi corsi di laurea della Politecnica delle Marche e dell'Ateneo d'Urbino. Sono queste le università che hanno appunto sede anche a Pesaro. E dall'altra gli studenti della Scuola Media Dante Alighieri. Durante i lavori della sede scolastica dei via Gattoni, questo piano è ormai definito e appunto come definito lo evidenzia questo articolo sul Corriere Adriatico. E poi parliamo del 25 aprile. 25 aprile, una giornata, come dicevo, sentita in modo particolare quest'anno a causa del conflitto russo-ucraino. Pace o riarmo? Ciò che manca è una politica in grado di agire, intitola oggi il giornale. Le donne dell'ospice GL si schierano contro la guerra sia un 25 aprile di memoria, hanno dichiarato. Comunque è un 25 aprile doloroso e dolente, divisi al di là degli schemi consueti, perché quando la storia si fa è difficile non essere presbiti come non essere miopi, dice il giornale. Ci sono due punti di vista, quello presbite e quello miope non c'è, però quello normale. E quindi la situazione veramente merita riflessione. L'invasione dell'Ucraina, la feroce guerra in corso, ha riacceso il dibattito sulla pace, soprattutto per quanto riguarda la memoria che i nostri vecchi, i nostri genitori, i nostri nonni conservano per quanto riguarda appunto i superstiti di quanto avvenuto nella seconda guerra mondiale, anche nel nostro territorio. E veniamo ora al resto del Carlino. Il resto del Carlino che oggi non pubblica la pagina di Pesolo, ma la pagina delle Marche, quindi condensa nella stessa edizione tutte le pagine che si riferiscono alle varie province marchigiane. Qualcuno probabilmente ha fatto festa nel weekend del 25 aprile. Comunque le notizie di Pesaro ci sono. Spero che l'Ucraina abbia il suo 25 aprile. Lampi a volte sbaglia e altri ne approfittano. È la festa della liberazione, parla così Luigino Gennarini, figlio di Lino, un partigiano doc. Un popolo aggredito va aiutato anche con le armi, ha dichiarato. Ebbene si tratta di Luigi Gennarini, figura storica della sinistra pesarese, lunga vita e attività prima nel Partito Comunista, poi nel Partito Democratico. Più volte assessore, consigliere comunale e provinciale, è stato anche presidente del Megas. Ebbene suo padre Lino, Lino Gennarini, scomparso a 85 anni, era a Falegname e fu partigiano, un partigiano autentico, col distaccamento balducci della brigata Bruno Lugli, che operava nella zona di Fonte Corniale, nell'entroterra insomma, dell'entroterra pesarese. Prima di essere partigiano, dice Gennarini, mio padre era un perseguitato politico antifascista e i prepotenti non li sopportava proprio. Sarebbe dire, dice il giornalista, sarebbe dire che assistiamo all'aggressione nei confronti di un popolo il quale ha deciso di resistere, si riferisce all'Ucraina. Dunque, senza discussioni, c'è un popolo aggredito, che va aiutato anche con le armi. Questa è la netta posizione di chi la guerra l'ha assaporata proprio in famiglia. E poi si continua con le proteste a Essoria, per quanto riguarda l'antenna che l'amministrazione comunale intende erigere nel quartiere. Noi protestiamo, il comune è muto e della nostra protesta non abbiamo dei risultati, ma non mogliamo finché non la spostano. Parla così la presidente del quartiere, Sabina Alessandrelli. Domani ci sarà un incontro affollato, si stanno unendo anche i residenti di Piazza Redi. Siamo stati buoni fino adesso, nonostante che le nostre proteste siano state piuttosto vivaci, non abbiamo reagito in altro modo, però adesso diciamo basta, dice Sabrina Alessandrelli, che è appunto presidente della circoscrizione. Questi vogliono una risposta, sono i cittadini che vogliono una risposta con i fatti. Insomma, l'antenna va spostata. E poi vediamo ancora sulla pagina di Pesaro, Villa Fastigi piange Adria, scomparsa a 87 anni. Era una signora che gestiva l'emporio dove c'era tutto. Domani si celebreranno i funerali. Adria era una donna conosciutissima a Villa Fastigi e non solo. Aveva fondato giovanissima il negozio Emporio Adria di Mangimi, Casalinghi, Ferramenta e molto altro. Venne 61 anni fa facendosi poi aiutare dalle figlie che tuttora continuano la sua attività. Era una donna di quartiere, una donna di frazione, una donna però a cui facevano riferimento tante tante famiglie. E questo, quando si crea un rapporto così, un rapporto stretto di amicizia, di fiducia, di collaborazione, ebbene, la scomparsa si sente e fa male un po' a tutti coloro che hanno conosciuto questa signora. E poi si parla in questo articolo di Spalla del resto del Carlino della festa del cavolo che in questi ultimi tre giorni, oggi l'ultimo giorno, si svolge a Metauriglia. La vita in campagna negli anni 30 e le storie sugli animali da cortile. La festa del cavolo incanta, dice il giornale. La festa del cavolo sfida alla pioggia. Non si ferma il nutrito programma di eventi. La Borgata, nata negli anni 30 sotto il regime fascista, aveva costruito questo regime 115 casette con il loro orticello, appunto, nella piana di Metauriglia. Ebbene, questa frazione risorge ora grazie ad un comitato che ha rievocato tutti i trascorsi delle famiglie che hanno vissuto in questo luogo, alimentando l'economia fanese grazie alla coltivazione del cavolo tardivo fanese. Una varietà ora quasi desueta, scomparsa, che però a un certo punto aveva conosciuto grande fortuna nei mercati internazionali. Si esportava moltissimo anche in Germania, in Francia, in Olanda, insomma, nelle città dell'Europa del Nord. E per quanto riguarda, invece, quest'ultimo weekend, ne affano, ci sono state diverse, diverse manifestazioni. Ricordiamo, per esempio, la mostra che si è inaugurata alla Rocca Malatestiana sabato scorso. Ricordiamo la tre giorni organizzata dal Circolo Bianchini, nella Sala del Gonfalone. Tre giorni dedicati al Giappone. Ricordiamo appunto la festa del cavolo che si è svolta a Metauriglia. Ricordiamo anche l'incontro che ha organizzato la Fondazione Carifano a San Domenico, dove si sono esposti i risultati delle analisi chimico-fisiche compiute su un capolavoro pittorico di grande rilevanza, ovvero il matrimonio della Vergine del Perugino. Sono stati momenti di attrazione per quest'ultimo weekend e dobbiamo dire che è stato un peccato che è stata rinviata anche la festa della Via dei Ciliegi. Ieri nel pomeriggio ha piovuto e quindi la festa non si è potuta tenere. Verrà rinviata in un altro giorno. E stiamo per concludere la nostra rassegna stampa. Oggi abbiamo tempo anche per qualche notizia di sport. Purtroppo non sono positive per le squadre locali, anzi dobbiamo dire che sono senz'altro negative. La vis finisce come era iniziata, gelo sui rinati entusiasmi. La stagione ormai è chiusa anzitempo, regala solo l'obiettivo minimo della salvezza. Beh, insomma, non è poco, non è poco. Alla fine emergono anche gli errori nella costruzione della squadra. Una difesa povera è il tallone di Achille dei Biancorossi. Una difesa povera di centimetri e di reattività ha pagato pegno in tante situazioni. Ebbene, finita come era cominciata per quanto riguarda la visse, con una batosta. L'ultima, quella più pesante, che è stata determinata appunto dall'Anconitana. una squadra che non ha così ammesso storie per quanto riguarda la visse. E così è accaduto anche per il Fano Calcio. Vediamo qui il titolo che poker, la Re Canatese è vicina al traguardo. Fano contestato. 4 a 0 è il risultato dell'ultima gara. Un'altra prova corale di altissimo livello per quanto riguarda la Re Canatese e ovviamente l'articolo è tutto a favore di quest'ultima squadra. Il Fano invece purtroppo non so che fine farà per quanto riguarda questo campionato. È andato male nel campionato precedente, è stato retrocesso e va male anche questa volta. Ebbene, era l'ultima notizia. Speriamo che domani la situazione migliore e ci siano notizie migliori per quanto riguarda appunto la cronaca. E a me intanto non rimane che salutarvi e augurarvi una buona giornata. Ci risentiamo domani alle ore 7. A risentirci. a Italia a Roma a Roma a Roma a Roma a Roma Grazie a tutti.